Molto bene ragazzi, io e Luca siamo su degli overcraft Ci sfideremo alla giostra medievale, ai lati di questa pedana ci sono dei secchi pieni di vernice Intingeremo le nostre spade nella vernice, cercheremo di colpirci Possibilmente non macchiando dei vestiti costosissimi Esatto, neanche miei Alla fine chi avrà la pettorina più sporca evidentemente ha perso Ok, tutto chiaro? Siamo pronti Ognuno ha i suoi angoli? Aspetta, giriamoci di sé Sei pronto? Pronto Sei pronto? Pucciano poco, non pucciano Aspetta, scrolla In guardia Marrano Vai! Bastardo Camicia da buttare Colpo basso! Colpo basso! No! No! Anche... Sparta! Chiari Seria! Hai busciato troppo Ale No, no, cuccia! E' imprevisto! No! 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 Noo! Noo! Signore e signori, è stato con noi Luca Argentero! Buon anno delle armi! Ciao ragazzi!